Ma vai a quel paese! Guida turistica dei comuni dei dintorni. Il Granapadano, conteso fra Codogno e Lodi, è una rinomanza singolare e con un bicchiere di vino, un furmai dulciur mario, dalla mungitura al marchio a fuoco. Il Granapadano, conteso fra Codogno e Lodi. Nelle immancabili diatribe di Campanile, il ranco di culla del Granapadano è tradizionalmente conteso fra Codogno e Lodi. Ma probabilmente hanno ragione entrambi, poiché la nascita del più celebre formaggio lombardo, all'alba del secondo millennio, è da situarsi nella pianura compresa tra Milano, il Po, il Ticino e l'Adda, allargandosi poi verso l'Olio, terre bonificate nel XII secolo dai monaci di Chiaravalle. Grazie al ruolo determinante dei cistercensi, la celebre abbasia non fu solo centro di spiritualità ed arte, ma una delle matrici gastronomiche più importanti d'Italia e forse dal mondo. Le bonifiche dei monaci avevano aperto infatti grandi pascoli, incrementando l'allevamento e la produzione di latte, in eccedenza rispetto a fabbisogno quotidiano nelle campagne. Quindi la lavorazione del grana nacque appunto per smaltire senza disperderla tale eccedenza, producendo grossi formaggi che richiedevano notevole quantità di latte, idonei per la mole e trattamento ad affrontare una lunga stagionatura e capaci di conservarsi molto a lungo senza che la pasta, dura e granulosa, perdesse i principi nutritivi della materia prima. Una rinomanza secolare Con moltiplicarsi dei caseifici, documentati sin dal XII secolo, crescono di pari passo la quantità di grano prodotto e la sua rinomanza. Nel XIV secolo la fama del formaggio ha tempo oltrapassato i confini lombardi e padani e grazie anche alla serbevolezza che ne favorisce il trasporto. Anche in Emilia, sulle orme dei cistercensi lombardi, fra il XIII e il XIV secolo, abbazie e monasteri rendono il territorio idoneo all'allevamento, introducendo tecniche di caseificazione analoghe, da cui nasce quello che diverrà il pammigiano reggiano. Si crea così, a dispetto dalle demarcazioni politiche del tempo, una vasta area omogenea per clima e terreni, destinata ad espandersi, ove si lavora, salvo marginali differenze e lo stesso prodotto caseario di pregio. Il medico Pantaleone di Confienza, l'autore della celeberma Summa Lacticinorium del 1477, che è più volte citata, classifica i formaggi padani tipo grana fra i migliori d'Italia, chiamandoli piacentini, ma aggiunge che qualcuno li dice parmensi e che si fanno anche in territorio mediolanensi, papiensi, novarensi, vercellensi, ossia tra Milano, pavia, novarensi e vercelli. Sono sabidi e boni, grazie alla bontà dei pascoli, specifica Pantalone, ma migliorano col maturare, stagionati anche tre o quattro anni a secondo della mole, in virtù delle cure riservate da esperti casari che li controllano assiduamente, nettando e illustrando la corteccia proprio come accade oggi. La bontà del formaggio padano era ben nota anche a Papa Leone X, che nel primo Cinquecento pare ne volesse inviare cento some a Martin Lutero e soci per vedere se, dopo averlo assaporato, si davano una calmata. Poi, a dispetto di Piacenza, complici forse anche le vicende politiche, a dominare il campo a partire dal XVII secolo, saranno da un lato Parma e Reggio, dall'altro le province lombarde del Grana. Da allora, volume produttivo e successo commerciale crescono di pari passo, sino al riconoscimento della DOP. Nel 1996, accronamento delle fatiche del Consorzio creatosi nel 1957. Questa è, in estrema sintesi, la bella storia del Grana Padano, fratello del parmigiano reggiano e suo rivale nella categoria dei grandi formaggi semigrassi da tavola e grattugia a pasta dura, che ha lavorato in tutta la Lombardia, escluso l'oltrepò mantovano con parte del Piemonte. Il Trentino, dove è prodotto con un proprio marchio, più alcuni comuni altoattesini, il Veneto, meno Belluno, e l'Emilia, escluse le province dedicate alla produzione del parmigiano reggiano. Parmigiano reggiano con un buon bicchier di vino A secondo della stagionatura, se il formaggio è giovane, verremo spumanti di Franciacorta o della Lugana, bianchi, freschi o rosati, di media struttura, come le Chardonnay, dei Colli Mantovani e del Garda, il Riesling e rosato dello Trepopavese. Se mediamente è stagionato, rossi, giovani, vivaci, quale il Botticino, Capriano del Colle, Cellatica, Valcaleppio, Bonarda e Pinot Nero dell'oltrepopavese. Senza dimenticare il gioviale Lambrusco Mantovano, se stravecchio, con aroma e sapore intensi. Sceglieremo dei rossi morbidi, ben maturi, con tannini non troppo taglienti e di struttura e persistenza adeguate, come il buttafuoco dell'oltrepop, per arrivare sino al Valtellina superiore e financo allo Sfursat di Valtellina. L'ingegno umano trova utilità anche nelle cose apparentemente inservibili. Così, il grana variato, al pari d'altri formaggi altrettanto compromessi, si trasformava in un preparato artigianale apprezzato un tempo fra il Cremonese e il Mantovano. Ormai superato dalle varie creme spalmabili, il cosiddetto formai del Shur Mario, dal nome dell'inventore, un contadino con lobby del gastronomo, titolare di un piccolo caseificio. Il formaggio prescelto, ridotto in scaglie o spezzettato, veniva messo in barattoli coperti d'olio d'oliva per una decina di giorni, durante i quali era sistematicamente buccarellato con uno stuzzicadenti per favorire la macerazione, prima di essere gustata sulla polenta o spalmato sul pane. Generosamente cosparso di pepe, con un gran sollazzo degli adepti di bacco, dato che il piccante preparato chiamava, come suoi dirsi, il bicchiere. Il bicchiere. Dalla mungitura al marchio a fuoco. Ancora oggi il metodo di produzione ricalca, nella sostanza, quello messo a punto mille anni fa dai cistercensi. Si impiega latte vaccino crudo, parzialmente scremato, di due monte giornaliere, di cui la prima riposa il tempo necessario all'affioramento della panna da scremare. Versato nelle tradizionali caldaie di rame, a doppio fondo, a forma di campana rovesciata, della capacità di 11 ettolitri. Quantità sufficiente appena per due forme. Il latte è riscaldato sino a 33 gradi, circa. Inoculato siero innesto naturale starter, costituito da una cultura di batteri lattici termofili sviluppatesi nel siero residuato dalla precedente caesificazione. Poi si aggiunge caglio di vitello che determina il coagulo in dieci minuti più o meno. Rotta la cagliata a dimensioni di chicco di riso con l'ausilio dello spino, la massa caseosa è continuamente agitata e cotta a temperatura che rasente i 55 gradi. Dopo aver riposato un'oretta, affinché si depositi aggregandosi sul fondo della caldaia, la massa, spurgato il siero, è trasferita dalla caldaia in due fasciere dalla tipica forma cilindrica leggermente bombata. Dopo un paio di giorni le forme passano in salamoia, ove galleggiano per due o tre settimane, periodicamente rivoltate dai casari a seconda della dimensione e dalla carica salina e dalla stagionatura prevista. Dopo essersi asciugate nell'apposito locale, le forme iniziano la stagionatura in condizioni igrotermiche controllate, ma generalmente con temperatura leggermente più alta e minore umidità all'inizio, e viceversa poi ne proseguo, e controllate quotidianamente e periodicamente ribaltate, ripulite e massaggiate dagli addetti. La durata minima della stagionatura è di otto mesi, ma può prolungarsi sino a 25. al termine ogni forma del peso medio di 32 kg circa viene giudicata esterioramente, percorsa con l'apposito martelletto onde valutare la compattezza della pasta e sondata con un sottile ago d'acciaio che permette di verificare la consistenza, consentendo inoltre l'esame olfattivo e gustativo delle particelle rimastevi. Se il risultato è positivo, la forma è marchiata a fuoco, col caratteristico marchio del consorzio. Il grano padano viene prodotto artigianalmente, benché in modestissima quantità, anche da latte di allevamenti biologici e con eccellenti risultati. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!